E' giunto il momento, purtroppo questo doveva accadere ragazzi, ho deciso di prendere una pausa Prendere una pausa per le vacanze di Natale, tranquilli ragazzi, ciao a tutti ragazzi e bentornati su Bad Smoke Games Voglio fare questo breve video per farvi gli auguri di Natale, per ringraziarvi, per ringraziarvi soprattutto del bellissimo regalo Perché siamo praticamente a 600 iscritti e niente, sono tanto contento Ma principalmente lo faccio per avvertirvi che prenderò una pausa per le vacanze natalizie, capodanno eccetera Siccome c'è molto da festeggiare in quest'anno E a parte quello, per farvi i migliori auguri, spero che passiate queste feste meglio di come abbiamo passato tutto questo anno di merda Faccio gli auguri a voi, a tutte le vostre famiglie, spero che stiate benissimo E noi ci rivediamo, finite le feste, agli inizi di gennaio insomma Non devo dire altro, basta, niente, il video finisce qui, io vi saluto, ciao belli Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti